Ormai un AB2 è qua e arrivano sempre vittorie, insomma quest'anno hai vinto molto bene, che gara è stata? Una gara molto complicata all'inizio perché abbiamo avuto qualche problema con la macchina, la prima mancia, poi la seconda siamo riusciti con le gomme nuove a fare un'ottima salita e la terza ho sbagliato io, ho esagerato un po'. Però tutto sommato siamo andati... è un onore vincere con Fabio che comunque è un campione, è forte, a casa sua specialmente. Ora ci aspetta tra 15 giorni un'altra e vediamo come va. I giorni probabilmente si invertono le parti perché viene lui da tu? Dalle mie parti. Senti, a prescindere da questa vittoria possiamo anche dire che questa è veramente una bella manifestazione, penso che sia una delle poche manifestazioni in Italia. È organizzatissimo, bellissimo, tutto bello, sia il percorso, tutto come organizzano è favoloso, è una delle più belle d'Italia. Una manifestazione in cui le partecipazioni aumentano al posto di minuire tra l'altro? Esatto, infatti, aumentano perché pure Fabio cerca di invogliare tutti i piloti economicamente, ci aiuta con l'albergo, con tutto, fai invoglia proprio a tutti gli altri piloti di tutta Italia, dalla Sicilia, dal nord, a farli venire qua. L'ultima situazione, obiettivo tuo, qual è quest'anno? Vincere il campionato che me l'ha stracciato lui l'anno scorso.